La tratta ferroviaria utilizzata dalle sud-est Lecce-Galliano, così come la maglia Gallipoli, ormai senza alcun personale di servizio. Stazioni chiuse e incustodite forse in attesa del contributo previsto dal Ministero delle Infrastrutture. L'elettrificazione è possibile grazie al finanziamento di 100 milioni di euro, ma intanto a rischio le strade che vengono attraversate dalla rete ferroviaria, mentre 7 dei 25 vagoni milionari giacciono nella stazione di Gallipoli. Molto tempo fa denunciammo lo spreco, forse di non pochi milioni di euro, scaturito dall'acquisto di 25 carrozze Silverling per un totale complessivo di 912 mila euro, poi mandate all'estero per la ristrutturazione nuovamente comprata al costo unitario di circa 900 mila euro l'una, che facendo un veloce calcolo significa che ogni vagone fu comprato per 36.480 euro, ma poi riacquistato, dovendo aggiungere più di 870 mila euro per ogni carrozza ristrutturata in Croazia. Se ci fu truffa o meno lo accerterà l'inchiesta della magistratura, di fatto a distanza di pochissimi anni, ma già da un po' 7 dei 25 vagoni giacciono dopo aver fatto pausa a Martina Franca presso la stazione di Gallipoli. In regione nulla sapevano, pur avendo contribuito all'acquisto di questi con un bel po' di milioni e solo oggi l'assessore ai trasporti Giannini dispone una probabile ispezione per verificare le motivazioni del fermo ferroviario.